Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Sembra proprio che abbia avuto la meglio il comitato ProSport, ma sul più bello l'autorità chiama all'appello. Signor Presidente, buongiorno. Buongiorno. I rappresentanti. Buongiorno. Benissimo. Allora, notizie dell'autogestione. Chi mi racconta? Abbiamo scelto con la classe di fare alcune proposte su alcune cose che non ci stavano abbastanza bene. Va bene, sentiamo queste richieste. E vorremmo un'ora libera in cortile o in giardino. Dopo pranzo? Anche dopo pranzo, qualsiasi ora. Qualsiasi ora. Va bene. Poi c'è stata una richiesta da parte di alcune ragazze di avere un'altra chiamata per chiamare appunto i genitori, perché gli mancano e quindi vorremmo questa appunto. Va bene. Poi ci hanno proposto pure di fare una giornata alla settimana, di che attività possiamo dipingere, queste cose qua. Sono richieste che si possono prendere in considerazione, non mi pare ci sia niente di strano. Tuttavia, voi sarete informati, come sono stato informato io dai signori sorveglianti, che c'è stata un'invasione del mio ufficio. Cinque di voi sono entrati qua. Presci. 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 Signor Tacco. E in più, mi è pure stato sottratto un mio amatissimo pennarello. Naturalmente io so chi sono queste cinque persone, per cui adesso vi chiedo questo, di andare di là, di dire che io prendo in considerazione le vostre richieste, ma che questo comportamento merita ovviamente una punizione. Però questa volta vorrei che voi vi assumeste queste responsabilità un po' più serie e quindi questi cinque signori fossero puniti da voi, cioè voi decidete la punizione. Anno mia, ecco là. Ma perché proprio a me? Mi dispiace, anche se però sotto sotto un po' mi diverte l'idea di dare una punizione. Una reazione comprensibile. Essere conferiti di un certo potere ha sempre il suo fascino. Grazie.